Un morto e almeno 4 feriti. E questo è il bilancio dell'azione di un uomo di 46 anni con problemi psichici che ha fatto irruzione in un centro commerciale di Assago a pochi chilometri da Milano e ha assalito 5 persone con un coltello. La vittima è un dipendente del supermercato, in quel momento era in servizio come cassiere, colpito da diversi fendenti e morto mentre lo traspertavano in ospedale. Uno dei feriti è in codice giallo, mentre gli altri tre sono ricoverati in codice rosso in gravi condizioni. Tra di loro Pablo Marì, calciatore del Monza, squadra di Serie A, è stato accoltellato alla schiena. Immediati sono arrivati gli incitamenti della dirigenza della squadra e del mondo del calcio. Lui è stato troppo forte, perché lunedì sera sarà in campo e quindi non lo so, è una forza incredibile. L'accoltellatore italiano, incensurato, da tempo era noto per i suoi problemi, bloccato da alcuni clienti e è stato poi fermato dai carabinieri, intervenuti dopo pochi minuti. Secondo le prime testimonianze, l'accoltellatore, in stato confusionale, non si sarebbe presentato nel supermercato già armato, ma avrebbe preso l'arma in esposizione su uno scaffale.